Non si fermano i contagi da Covid-19 in tutta la provincia di Salerno. All'ospedale di Eboli si è spento un 84enne, la 27esima vittima nel comune. Allerta a Ravello, dove in seguito alla positività di un consigliere che aveva presenziato al Consiglio Comunale è stato accertato il contagio del sindaco Salvatore Di Martino e di un assessore, si aggiungono ai nove positivi in paese, tra cui un parroco, Sanificati, Municipi e Comando di Polizia Locale. Intanto il comune di Minori, in vista del ritorno in aula, ha disposto uno screening con tampone antigenico per alunni, genitori, docenti e personale non docente. A Salerno, invece, intervento urgente dei carabinieri che hanno consegnato a domicilio una bombola d'ossigeno ad una persona affetta da Covid-19 in condizioni preoccupanti. Intanto a San Mango, Piemonte, tamponi antigenici gratis alla popolazione, iniziativa organizzata dall'associazione, nata dopo la morte della studentessa sedicenne Melissa Larocca, stroncata da una patologia cardiaca. Tutti negativi, 50 test, tranne quello di una ragazza già posta in isolamento domiciliare. Questa è un'iniziativa appunto che sorge in memoria, al ricordo di Melissa, per dare valore alla vita e alla dignità umana, ma soprattutto mettendo in evidenza l'altruismo, la solidarietà per cercare di debellare la sofferenza e dare la speranza. E come ci ha insegnato padre Francesco, le lacrime, le lacrime anche di questi genitori che hanno perso la loro figliola, possa alimentare la tolleranza.